Ancora buon viaggio, ben trovati dalla redazione di Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Traffico regolare su strade autostrade della nostra regione, segnalati materiali dispersi in A1 tra Badia e la variante di Valico in direzione di Bologna. Un altro veicolo in avaria in A11 tra Lucca Est e Capannori, direzione di Firenze. Per quanto riguarda Firenze, in via dei Palchetti ancora lavori fino al 12 di marzo, un divieto di transito da via dei Federighi a via del Moro, il tratto da via dei Federighi a via della Vigna Nuova diventa assenso unico verso quest'ultima. Ancora un aggiornamento sui treni, il guasto tra Scarlino e Gavorrano, il treno 19406 Grosseto Livorno viaggia con 28 minuti di ritardo. Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.